Buongiorno a tutti. Dato che oggi quello che ho da dire è molto delicato e importante per tanti in mezzo a noi. Io sono soltanto una povera anima che cerca la verità, che prega il Signore di illuminarla per proclamare il vero e non il falso, soprattutto un vero intero non a metà. Io sia un testimone della verità intera del mio Maestro Gesù e non il solito profeta delle mezze verità, quindi un falso profeta. Per questo io invoco la nostra Madre Celeste che possa aiutarci a comprendere meglio insieme la verità intera che sola può liberarci, la verità del Suo Figlio Benedetto, nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Madre di Dio Mediatrice del mondo, prega per noi. Madre di Dio Mediatrice del mondo, prega per noi. Madre di Dio Avvocata del mondo, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù Maria vi amo, salvate le anime. Perché è per questo che io mi fermo spesso lungo la mia passeggiata, chiamiamola così per i boschi, a riflettere e quindi a donare i frutti della mia meditazione, della mia riflessione, della mia contemplazione. E osservando quello che accade, soprattutto nel piccolo resto fedele del mio Dio, noto tante cose che non piacciono al Signore, in cui il Signore non può posare il suo compiacimento magnifico. No. Anzi, io sento il rimprovero e che devo farmi oltretutto anche portavoce di questo rimprovero del Padre Celeste, anche se preferirei evitarlo. Anche perché quando ti poni a rimproverare un fratello non solo è sgradevole, ma è doloroso. Come San Paolo di Tarso quando rimprovera San Pietro. E lo ripresi pubblicamente davanti a tutti, dicendogli tu ti comporti come un'ipocrita. così come il Battista con Erode ha dovuto rendere testimonianza a Dio e dirà anche a costo della vita, infatti verrà ucciso. Non ti è lecito giacere con la moglie di tuo fratello, Eroidiade, che poi riuscì a vendicarsi di questo affronto. Per molti quando viene enunciata la verità è un affronto. Non è un dono per liberarlo, liberarla dalla falsità. No, è un attacco, è un affronto di cui molti poi ne fanno scudo, se ne fanno come vittime. Ed è tutto il contrario. Ora, nel piccolo resto fedele ci sono delle voci che non piacciono a Dio. Quindi io evito di dire i nomi, però a volte io devo dire i nomi, come spesso io ormai dico frequentemente che Bergoglio, Papa Francesco I, è un impostore. E su questo molti tra di noi, del piccolo resto fedele, condividono pienamente questa verità che la Madonna di Anguera, aiutandoci, sostenendoci, ci rivela. Il successore di Benetto XVI, pregate per Papa Benetto XVI perché il suo successore sarà un impostore. Come poi ripeterò ancora, Pietro non è Pietro. Quindi io affermo, dico e rendo testimonianza, Francesco I è un impostore. Quindi io rinnego, rifiuto l'espressione nella liturgia in comunione con Papa Francesco I. È sbagliata perché Francesco I non è però lo posso dire io. Un sacerdote, un vescovo, un cardinale, se lo dice, lo scomunicano. Molti di voi, del piccolo resto fedele, che non avete capito praticamente ancora quasi niente, non avete capito questo. Pensate, mal guidati da alcuni falsi piccoli leader in mezzo a noi, che adesso ce n'è proprio per loro. Oggi è proprio per loro e farò anche i nomi. Voi pensate che un sacerdote, questo è per tanti miei amici, compagni, i sacerdoti che vivono soffrendo questa apostasia, questa brutta menzogna di un'impostura, perché lo sanno benissimo che Francesco I è un impostore, ma hanno paura, non lo dicono perché vengono scomunicati come Don Ramon e pensano di essere tiepiti, di essere vili, di non avere il coraggio di affrontare la situazione. No, anche questo è sbagliato e quindi oggi ve lo dico chiaramente amici miei che siete diventati grazie a Dio sacerdoti. Gesù ci tiene molto a voi e dovete aiutarlo dentro Roma e dovete essere saggi, umili, astuti, rimanendo semplici, cioè veri, come vuole Gesù. Quindi voi non peccate, non siete tiepidi, non siete vili quando voi non dite, non affermate chiaramente come vogliono altri, che adesso ce n'è per loro. No, Papa Francesco primo è un impostore, quindi dovete uscire fuori, altrimenti voi tradite. No, voi fate bene a rimanere e ve lo ripeterò meglio adesso, dopo che ho rimesso al loro posto questi ipocriti in mezzo a noi che vi vogliono mettere paura, come vogliono spaventare i piccolini dicendo che la messa non è più valida, che l'eucaristia non è più la presenza reale di Cristo, quindi che l'abominio della desolazione è già compiuto, perché non è più la santissima eucaristia, o peggio ancora dicendo che se anche fosse per una remota ragione ancora transustanziata l'eucaristia, però facendo la comunione, in comunione con Francesco primo che è un impostore, allora noi nelle sacre particole riceviamo una maledizione praticamente, ci stanno maledicendo costoro, cioè noi facciamo corpo unico con gli apostati, cioè facciamo corpo unico col demonio, questo stanno dicendo, questi ipocriti che vanno diffondendo questo abominio di questa menzogna. Quindi voi, miei amici sacerdoti e voi, vescovi e cardinali, continuate con questa vostra umiltà, come in tutti i tempi della storia della Chiesa ci sono stati casi analoghi e forse anche peggiori, in cui c'erano degli antipapi, quindi dei papi falsamente eletti, oltre che eretici, ma non si è mai presentato il problema dell'unacum. L'unacum è l'invenzione di alcuni confusi in mezzo a noi. Unacum, vediamo pure da dove nasce unacum, questa espressione che non è mai esistita nella storia della Chiesa Cattolica, esiste adesso a causa di alcuni confusionari. Quindi continuate e ovviamente facendo resistenza alle menzogne, alle resie di questa apostasia strisciante che si è introdotta all'interno della Chiesa di Cristo Capo. Combattete le resie, mantenete sempre con saggezza, con prudenza, con astuzia, come dice Gesù nel Vangelo, siate astuti come i serpenti e semplici come le colombe. Quindi la espressione, per esempio, la preghiera distorta del Padre Nostro non invalida il Padre Nostro. La parolina, la rugiada, manda la tua rugiada, non invalida la consagrazione. Aver cancellato nella preghiera del Gloria e pace intera agli uomini di buona volontà non invalida la preghiera del Gloria. L'espressione, la proposizione, prega per noi, è in comunione con Papa Francesco I, con il Vescovo, con i presbiteri, i diaconi, eccetera. Cioè una preghiera di intercessione verso tutti, in comunione, dice, in unione con Francesco I. È un'espressione, anche questa sbagliata, come tutto quello che è stato fatto in queste preghiere, come tutto quello che è stato fatto durante questi ultimi pontificati nella liturgia. Ma tutto questo, il nuovo sordo stesso di Paolo VI, è tutto un oltraggio e tuttavia non rende ancora invalida la Santa Messa e soprattutto la Santissima Transustanziazione Eucaristica. Quindi continuare con la preghiera in unione con Francesco I non invalida la Santa Messa e i sacramenti. Come in una Santa Messa ortodossa non viene invalidata la Santa Messa con i suoi sacramenti perché il Pope, il sacerdote o il Vescovo, che sono divisi dalla comunione ecclesiale cattolica e non riconoscono nessun Papa e tuttavia noi li riconosciamo come veri Vescovi, veri presbiteri e riconosciamo soprattutto la validità della loro Santa Messa e dei sacramenti. Tanto che possiamo, in un caso di necessità, come dico sempre, fare la comunione, confessarci e anche altri sacramenti, anche con un prete ortodosso. Così come con un impostore durante la storia della Chiesa, il Papa Davignone, durante il tempo di Santa Catania da Siena, che era un falso Papa, ma non ha invalidato la Santa Messa a tanti fedeli che in Genova sono andati alla Messa e hanno fatto, hanno ricevuto il sacramento dell'Eucharistia per tutta una generazione, come ripeto sempre, per questi capoccioni che non vogliono capire. Perché la comunicazione in sacris resta sempre, grazie al sangue di Cristo, quella supplenza in tutte le situazioni della Chiesa universale dove ci sono tutte queste confusioni, queste assenze, dove non c'è un Papa per esempio, come adesso. Il vero pastore non c'è più. La Chiesa, dopo Benedetto XVI, che è l'ultimo pastore di questa seconda era del figlio, è senza pastore e stiamo attendendo il nuovo Santo Papa in questo che è già l'inizio della terza era, in questo passaggio dolorosissimo, l'era dello Spirito Santo. Quindi la Messa rimane sempre valida, i sacramenti rimangono sempre validi, la lampada accesa al Santissimo Tabernacolo è rimasta ancora accesa, non si è già spenta. Questi anticipatori dell'abominio della desolazione sono tutti dei falsi profeti, sono degli impostori, sono dei bugiardi, come adesso infatti chiarirò ancora meglio. Quindi miei cari amici sacerdoti, continuate rimanendo però fedeli al Santo Magistero. Non seguite queste dottrine errate, peregrine, che sono vera eresia, puro veleno e soprattutto non insegnatele ai fedeli. Non c'è bisogno che voi dite Bergoglio è un impostore, un usurpatore come ha fatto Don Ramon, che lui in coscienza retta ha seguito la sua coscienza. Ma non c'è bisogno di fare questo, altrimenti non rendete testimonianza. No, non è così che si rende testimonianza. La testimonianza si rende rimanendo fedeli al Santo Insegnamento del Maestro, alla della sua santa dottrina. Perché quando giungeranno questi impostori, questi massoni, questi cardinali massoni, questi cattivi pastori, giungeranno all'ultimo atto dello sfregio definitivo, rinnovando in una nuova liturgia globale, tutto il rito della Santa Messa e cambiando le parole della consacrazione, allora sarà veramente la cessazione del sacrificio, allora sarà veramente l'abbominio della desolazione posta in luogo santo, predetta dal profeta Daniele e dal San Giovanni Apostolo, come già ho detto nelle precedenti riflessioni. Scusate se ripeto, ma è per tanti che giungono ora. E anche per ripetere, per ripassare, per vedere sempre meglio. Io non ripeto mai, è uno stile, è un metodo a spirale. Sembra che mi ripeto, ma è sempre per procedere per gradi, con sfumature delicate, sempre di più verso la sorgente, cioè quella pienezza della verità che ci libererà completamente. Se avete pazienza, e umiltà ci arriviamo. Perdonate le mie ripetizioni, per i più piccoli, non ci siamo solo noi, sto qui per questo. Allora, come in classe, ci sto anche per quelli ultimi, più lenti. Allora, queste voci, questi strilloni in mezzo a noi, che stanno diffondendo veleno, peggiore di quello di Bergoglio quasi, una bella gara tra di loro, ma sono allo stesso livello. Per esempio, prendiamone uno a caso, Minutella. Minutella, che è persuaso di compiacere il buon Dio, invece lo sta sdegnando in un modo che lui nemmeno si immagina. Sta suscitando l'ira di Dio Padre, che che lui sia convinto di essere un vero leader del piccolo resto fedele e che Gesù è molto grato a tutta la sua opera, a tutto il suo grand'affare. No, no, Gesù non è affatto contento. Come adesso ti dirò, caro fratello, spesso io ho evitato di dire il tuo nome per delicatezza, ma a volte la delicatezza deve rivolgersi anche ai più piccoli, che tu stai guastando, che tu stai plagiando, traviando verso il male. Attento e ascolta. Ce n'è più di una, eh, che devo dirti. A te e a tutti quei fanatici che ti seguono, perché fanatici sono, eh. Il vostro fenomeno non è quello di un piccolo resto fedele. Si chiama, presso uomini saggi, consumati nel osservare tutte queste dinamiche, fenomenologie sociali ed ecclesiali, il vostro fenomeno si chiama fanatismo religioso. Ora, tu vai diffondendo una perniciosa eresia. Il 50% delle cose che dici è giusta, è corretta. Io condivido pienamente. Però mi sono reso conto che tu ti ne fai scudo. Ti ci nascondi dietro questo 50% di correttezza. Com'è che Francesco Primo è un impostore, tutte le eresie che va diffondendo, Raneriane, con Casper, con tutto. Pensa che stiamo facendo l'elenco del 50%. Poi c'è però un 50% di quello che vai diffondendo, che è tutto sbagliato. È un abominio, dice Dio Padre. Tu che pensi di essere l'unico che il Signore parli. Parliamo anche di questo. Io difendo i veri mistici e i veri veggenti come Pedro Regis, che tu lo hai conosciuto come me. Cioè, sai benissimo che Pedro Regis, voce della Madonna di Anguera, è un vero fratello in Cristo, è un vero messaggero di Maria Santissima. Lo sai benissimo. E allora perché Pedro Regis continua a prendere la comunione tutte le mattine come faccio io? In quel pranzo che hai fatto con lui, qualcosa ti ha accennato. Ma quelle cose che non ti piacciono, tu le rifiuti, le rigetti. Invece di riflettere. Invece di approfondire. E fai proprio per questo tuo difetto sempre un gran pasticcio. Come tra Sant'Omaso d'Aquino e Sant'Agostino, nella Somma Teologica. Stravolgendo tutto, non avendo capito dunque un bel niente, caro teologo. E soprattutto confondendo tanti piccoli. Che la Somma Teologica hanno letto soltanto quel paragrafo che tu continuamente vai a indicare. Il paragrafo 9 della parte 82. Lo sanno tutto il mondo quel paragrafo adesso. Grazie. Soltanto che lo hai spiegato male. In un modo ridicolo. Diciamo proprio buffo. Su piano teologico serio. Non avendo letto tutto il contesto. In cui l'Aquinate andava integrando ciò che aveva detto nella sua chiara proposizione Sant'Agostino. E tu li hai messi l'uno contro l'altro. In opposizione praticamente. Come ha fatto Lutero con San Giacomo Apostolo e San Paolo di Tarso. Lo ripeto perché questa è una cosa che dovete capire bene. Perché è una delle opere buffe di Minutella. Andiamo a vedere bene quando tu ti esibisci e fai finta, perché è una finzione, che parla attraverso di te Padre Pio, parla la Madonna. Io difendo i veri veggenti, ma rimprovero i simulatori come te. L'esibizione costante di queste pretese comunicazioni celesti ti hanno aiutato ad accreditare presso piccole fasce di sacerdoti e gruppi di laici maggiormente propensi a lasciarsi suggestionare dal racconto di apparizioni, rivelazioni private e profezia. Ha accreditato dunque tutto questo tuo recitare, l'attenzione di molti. e quindi spesso il loro consenso. Perché tu di questo sei affamato, di consensi. Ancora più di fare attenzione alla vera volontà del Maestro Gesù. La tua è una fame non tanto eucaristica, infatti lo rinneghi Cristo nella sua Santissima Eucaristia. Non comprendi neppure qui che Lui è realmente presente, ancora. Sfigurato, oltraggiato e profanato, ma è ancora Lui. Ma non lo riconosci sotto tutto quel sangue, perché non ti piace quel sangue. Non lo ami quel sangue, è eucaristico. E per questo non lo riconosci. In un'occasione documentata, tu hai cercato grottescamente, di fronte ad alcuni fedelissimi, questi fanatici, di imitare la voce di Padre Pio. Attento perché Padre Pio parla a molti di noi. Anzi, proprio a te non parla proprio. E lo sappiamo che non ti parla Padre Pio. Non ti ha mai parlato Padre Pio. Simulatore che non è un grande esperto che attacca un Pedro Regis, che è veramente un veggente, dicendo che la sua è una scrittura automatica, quando invece è veramente la madre di Dio che gli parla. e il vero team dei veri esperti che indagano sul caso Anguera, ancora sono in alto mare, perché da oltre un decennio tutte le profezie di Anguera con Pedro Regis si sono avverate tutte. Quindi io difendo i veri veggenti, capisci? Così come amo rimproverare per amore i falsi come te. Hai provato a imitare la voce di Padre Pio. Come che stava possedendo il tuo corpo. Questo è un comportamento oltretutto da medium, non da mistici. La possessione celeste di un mistico che viene rapito in estasi non è una possessione come tu hai cercato grottescamente di imitare. E' tutt'altro. E ci sono veri esperti, veri studiosi, oltretutto ispirati dal Signore Dio, vere anime sante che hanno veramente il dono di discernimento e che sanno riconoscere subito un vero da un mistificatore come te. E con quella voce di Padre Pio hai intimato ai tuoi fedeli la più stretta fedeltà alla tua persona. Cosa che un vero santo, un vero mistico, come Padre Pio, mai avrebbe fatto. Anzi ha sempre rimproverato questi fans, questi creduli. Ha sempre rimproverato di seguire Cristo. Perché anche i santi della Terra possono sbagliare. E lo ripete sempre. Non fidatevi neppure dei santi della Terra. E ha ragione. I veri santi. Figuriamoci poi i simulatori. In un'altra, tu parlavi in falsetto. Quella l'ho udita bene. E posso anche riferire i particolari. Parlavi in falsetto. Come la voce. Oh figlio, mio figlio. Cioè tutte queste cose. Questi modi. Cercando di presentare te stesso come un medium. Per conto della Santa Vergine. Ma tutti ci siamo mai trovati di fronte a una vera estasi. A un vero rapimento. A un'anima che parla in estasi. Come molto spesso Padre Pio. Addirittura dei direttori spirituali. Che hanno scritto quello che lui diceva in estasi. Parole ineffabili. Non le bagianate che vai diffondendo tu. L'arcivescovo di Montreale. Si diceva certo. Nella sicura falsità delle tue affermazioni. Quando ti dichiaravi profeta. Di messaggi soprannaturali. La cui diffusione ha messo seriamente a rischio la genuina devozione popolare verso la Madonna, gli angeli e i santi. Quelli come te sono un abominio. E non tutti i ministri sono cattivi che rilevano in alcuni in mezzo a noi dei falsi e degli impostori. Perché quasi sempre hanno ragione. Raramente sbagliano. Ma alla fine, quando c'è la volontà di Dio, alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Come Lourdes, Fatima, Amsterdam, che non viene mai citata Amsterdam. Dove proprio lei lì è riconosciuta poi dalla Chiesa Amsterdam. Dove la Vergine stessa si vuole essere onorata col titolo di signora di tutti i popoli. E per quel nuovo anche dogma, l'ultimo, dove lei vuole essere onorata con i titoli di madre di Dio, mediatrice, corredentrice, avvocata. L'ultimo dogma di tutta la trattazione mariologica. E sarà questo. Perché le cose di Dio, alla fine, giungono sempre in porto. Le cose del demonio, invece, fai attenzione, fratello, perché ti sto rimproverando, non per umiliarti davanti al mondo, ma per la salvezza della tua anima e per quella di tanti piccoli che purtroppo ti seguono. Scusatemi, perché veramente sento il Signore sdegnato di tutto questo errore. Tutta questa mistificazione della sua parola che sta provocando dei danni gravissimi e irreparabili per alcune anime. Per i meno ingenui sono le stesse catechesi di Minutella ad apparire ambigue e confuse. Mica sono tutti creduli, eh? Ci sono anche quelli più seri e quelli equilibrati. Non increduli, perché tra credulo e incredulo c'è un equilibrio, eh? Che è l'essere credenti. Non è soltanto creduli o increduli, no. Tutto e due sbagliati. Come Bergoglio, che è un impostore, e un Minutella, che è un altro falso profeta. Uno strillone che si proclama membro e leader del piccolo resto fedele. No, non lo è. C'è un equilibrio, c'è un giusto tra creduli e increduli. Ci sono i credenti. Non ci sono solo i modernisti o i conservatoristi, da cui Minutella ha tratto come sua bandierina il famoso Unacum. Unacum, proprio dai conservatoristi, ha tratto questa mistificazione. Unacum che la Chiesa Cattolica, la storia della Chiesa, non ha mai, nemmeno, pensato una cosa del genere. Per quella che è una vera comunione sacramentale, quando non ci sono scomuniche particolari come per Lutero. E lì lui negava anche l'Ugaressia. Quindi le messe dichiarate, come dice l'Aquinate, con un eretico dichiarato, non solo non sono valide, ma sono peccato se tu ci vai. Ma quando è dichiarato, brutto, ignorante, che vai a cianciare di un'Aquinate che non hai capito niente e che non contraddice Sant'Agostino. Perché Sant'Agostino, lo ripeto per quelli che non sentono spesso, Sant'Agostino dice la messa, i sacramenti di un presbitero, di un vescovo eretico, peccatore, scismatico, sono validi, dice Sant'Agostino, e la proposizione è chiara. Quindi Sant'Ommaso d'Aquino non può andare contro Sant'Agostino, contraddicendo lui, dottore della Chiesa, un altro dottore della Chiesa, tutte e due santi. La verità non va contro se stessa. O è sì o è no. Allora che cosa dice Sant'Ommaso quando il re sembra apparentemente per gli ignoranti come Minutella che sta contraddicendo Sant'Agostino? Dicendo, l'Aquinate, la messa, i sacramenti, con un presbitero, un vescovo, quindi anche un papa, quindi un superiore, che sono peccatori, scismatici ed eretici, la messa non è valida, quindi è peccato, fa peccato. Ma in che contesto lo dice questo? Perché sta andando esattamente contro Sant'Agostino, che dice che invece è valida. Uno dice che è valida, uno dice che non è valida, anche se sono peccatori, eretici, scismatici. Allora che stanno dicendo? Stanno dicendo che Minutella non ha capito niente, e lo dice in particolare Sant'Ommaso d'Aquino. Perché Sant'Ommaso d'Aquino, perché ha studiato seriamente la Somma Teologica tutta, vuole dire che sono peccatori, coloro che frequentano la messa e ricevono i sacramenti, da un peccatore scismatico e eretico, dichiarato da tutta la Chiesa, quindi come da un concilio, come ripeto sempre, Lutero, dopo che è stato dichiarato eretico dal concilio di Trento, con 33 anatemi, compreso quello eucaristico, che lui rinnegava anche l'Eucaristia, allora lì, chi va alla messa con un eretico dichiarato da tutta la Chiesa, da un concilio, commette peccato. Certo, se io oggi vado a una messa luterana e faccio la comunione simbolica con i luterani, commetto peccato. Ma prima che l'eretico fosse dichiarato tale da tutta la Chiesa, dal concilio, allora io potevo andare a una messa, come dice Sant'Agostino, di un presbitero eretico, ma il sacramento sarebbe stato ancora valido, anche se io sapevo che quello era un eretico, ma sarebbe stato sempre valido, grazie alla comunicazione in Sacris, quindi a questa che ci dona, questa comunione sacramentale in ogni caso, eccetto in questi casi specifici dove la scomunica è anche proprio per il rinnegamento eucaristico che questi sacerdoti hanno fatto. Attento minutella, cerca di ascoltare quello che ti dico, perché io ancora una messa per esempio con Don Ramon la riconosco valida, ma attenzione a voi, fratelli tutti, anche voi, attenzione a non accusare i fratelli dentro Roma, voi che siete, alcuni di voi, non tutti, alcuni di voi che siete quella gran parte della Chiesa del figlio Benedetto di Maria, come dice Adanguera, che siete però fuori Roma a causa di questa eresia, di questo impostore che ha occupato la sede, il trono di Pietro e che siete stati cacciati via, siete usciti fuori. Quindi il Signore ancora per questa comunione sacramentale, in virtù del suo sangue prezioso e della vostra vera, sincera coscienza per cui voi avete sinceramente proclamato l'impostura in coscienza, retta e quindi il Signore mantiene ancora anche con la scomunica, ma proprio perché voi non avete offeso il sacramento eucaristico, ma soltanto una vera impostura, quella di un pontefice falso, impostore, scismatico ed eretico. Per questo il Signore ancora vi protegge e le comunioni che i fedeli fanno con voi il Signore le benedice, benché voi siete secondo la legge ecclesiale scomunicati. Quindi non siete più nella piena comunione ecclesiale, anche se io ritengo che queste leggi ecclesiali, perché voi avete dichiarato che il pontefice è un impostore che è vero, sono esse stesse dunque sbagliate. Ma attenzione, perché voi se dite delle cose che sono sbagliate a loro volta e cattive, venenose, come che la messa dei sacerdoti santi che sono ancora dentro Roma e i loro sacramenti non sono più validi perché sono in comunione a una cum Francesco I, voi commettete un peccato anche peggiore, rinnegando la validità del sacramento eucaristico. E non stiamo più parlando di una comunione ecclesiale confusa e usurpata, ma stiamo parlando della realtà eucaristica ed è tutto un altro discorso e che non vi vedo sapienti su questo punto, ma vi vedo confusi perché ancora troppo ignoranti. Quindi riprendo perché non voglio uscire troppo fuori perché il tempo corre. Quindi sono proprio spesso quellore che hanno seguito, hanno conosciuto bene Minutella che si sono resi conto delle sue proposizioni confuse, ambigue. Per esempio lui inizia a citare senza un vero e proprio criterio come maestri di ortodossia autori del tutto diversi tra loro come non ci sono collegamenti seri. per esempio lui ha fatto la tesi nel suo dottorato con Hans von Baltasar e che lo collega poi forzatamente con un Monsignor Lefevre addirittura con Giovanni Paolo II o con Benedetto XVI fino ad esprimere apprezzamento per tutti quei conservatoristi di varie correnti, quindi una confusione anche lì tra i conservatoristi da cui però lui ricava l'espressione una cum tanto da farne la propria bandierina che è una bagianata una cum fratelli tutti è una grande bagianata inventata da alcuni conservatoristi e elevata all'ennesima potenza da Minutella la più grande bagianata che in tutta la storia della Chiesa non si è mai sentita quindi io ti ho difeso su tante cose di quel 50% fratello nostro fratello Minutella che ti vogliamo bene e non vogliamo distruggere la tua persona noi stiamo semplicemente distruggendo tutte le aporie che hai diffuso tutte le eresie che hai effuso tutta la confusione che hai provocato questo stiamo distruggendo per riportare ordine per riportare pace anche a te ma io sento che tu sei molto molto presuntuoso ci alterigia in te sì o no è una provocazione vedi un po' di vedere bene con un esame di coscienza profondo quello che c'è dentro di te e in ogni caso io ti posso dire che tu stai sbagliando tu per un bel pezzo ti sei messo dietro Joseph Ratzinger papà benedetto sedicesimo esaltandolo con la tua ansia no solita no la tua fame di fama di consensi fratelli ma poi però quando uno ti contraddice subito tu lo lasci cadere lo distruggi lo butti via vero? come fanno tutti gli opportunisti nemmeno la fiducia nei confronti di Joseph Ratzinger è piena infatti quando il vescovo bavarese sceso dalla cattedra di San Pietro con le sue dimissioni ribadisce la sua amicizia con il suo successore vergoglio tu Minutella che cosa hai fatto? come hai reagito? sei apparso al mondo intero smarrito disorientato e hai esclamato incredulo che qui ragazzi è in gioco la fede stessa instabilità contro stabilità equilibrio contro squilibrio chiarezza contro confusione sono tesi e antitesi che dovresti rivedere bene senza essere pesante e noioso scusatemi tu hai tentato goffamente di avvalorare le tue dottrine come già ho detto Pocanzi con autori come San Tommaso d'Aquino stravolgendone i contenuti di cui non hai capito il senso poi hai esortato tutti e qui si fa grave e quindi adesso fate attenzione anche voi che lo seguite attenzione hai esortato tutti a non confessarsi più con altri sacerdoti che non appartengono al tuo piccolo resto attento è tuo piccolo resto che non è il piccolo resto del nostro Signore Gesù Cristo e della sua mamma celeste Pedro Regis ed io continuiamo ancora a fare la comunione tutte le mattine hai capito e qui il simulatore sei tu non siamo noi e se pensavi di passare la liscia hai capito male perché quando la confusione si fa troppo irritante per Dio Padre il Signore Gesù manda qualche suo attrezzo di quei suoi arnesi pesanti che sono strumenti che rimettono a posto tutti anche la bestia come vedremo chi vivrà vedrà quindi tu hai esortato tutti a non confessarsi più con altri sacerdoti che non appartengono al tuo piccolo resto hai chiesto di non ricevere la Santa Eucaristia da costoro e che se celebrata in comunione con Papa Francesco non sarebbe più il corpo del Signore ma quello di Satana come ieri che non ho detto per delicatezza e qui sbaglio io quando cerco di essere delicato con quelli come te che hai detto proprio tu l'hai detta questa frase se anche per una remota ipotesi la transustanziazione ancora avvenisse ciò andrebbe a condanna di chi assume le particole eucaristiche perché in tal modo diventerebbe un corpo unico con gli apostati tu qui hai lanciato una maledizione contro degli innocenti che stanno invece vivendo esattamente la volontà di Dio Padre nel nome di Gesù e di Maria queste maledizioni tu renderai conto a Dio perché tu stai scandalizzando i piccoli del mio Signore Dio e su questo punto tu stai giocando col fuoco e ci hai giocato anche troppo e adesso capirai che il fuoco scotta ma tanto brucia tanto il fuoco di Dio lo Spirito Santo minaccia no è un ammonimento ti sto direggiando ti sto offendendo no ti sto rimproverando davanti a tutti certo perché davanti a tutti tu hai fatto questo quando dici tutto il mondo ha udito quello che dico nella tua radio privata mi hanno detto e ci credo perché l'ho sentito anche io tutto il mondo mi ascolta e proprio oggi mentre pregavo sentivo come Gesù con questa espressione tutto il mondo ti ascolta anche Gesù e si dispiace di te non si compiace si dispiace e mi dispiace anche dirtelo ma te lo devo dire e te l'ho detto che lì che lo conoscono Don Minutella me lo facciano ascoltare questo video non ho tempo da perdere da andare di qua e di là io seguo il mio cammino a diritto con il mio maestro che è Gesù il mio maestro e la mia maestra che è sua madre la madre di Dio la corredentrice del mondo e voi non vi nascondete dietro le parole vere e sante perché tanto vi smascheriamo grazie al fuoco dello Spirito Santo siamo a caccia di quelli come voi voi siete proprio come l'impostore siete altri impostori e vi prenderemo uno per uno dinanzi a tutto il mondo pubblicamente vi riprenderemo come dice Paolo di Tarzo a Pietro e lo scrive lo scrive nel Vangelo del Signore nostro adesso arrivano le cose più gravi e pesanti di Minutella non lasciate per ultime hai ordinato a Minutella di non far battezzare i propri bambini da costoro a non farsi nemmeno benedire dai pastori della Chiesa ufficiale per non riceverne maledizioni sei tu che stai diffondendo maledizioni ipocrita e ti compiaci del male che stai facendo ai più piccoli delle lacrime che stai facendo versare alla mamma celeste oh mio Signore quando facevi quelle simulazioni buffe e grottesche hai detto in modo imperativo di non entrare nemmeno nei santuari proprio l'abominio della desolazione totale e quello sei tu perché tu stai facendo proprio il lavoro di questi mercenari vestiti di nero non con l'abito santo dei soldati di Cristo la santa talare no vestiti di nero cioè con le loro anime nere puligginose di inferno servi del demonio questo siete voi che collaborate con costoro a abbreviare i tempi dell'abominio che loro vogliono instaurare su tutta la Chiesa Cattolica cioè la cessazione del sacrificio e voi questo abominio già lo state imponendo a tutti cessando di ricevere la Santissima Eucaristia la vera Eucaristia che arde ancora nella sua fiamma accanto a tutti i tabernacoli della terra ancora per ora fino alla fine fino alla morte e a questa volta della Chiesa di Cristo come già è stato per Cristo stesso quindi tu vai dicendo che non bisogna entrare nemmeno nei santuari molte persone credendo alle tue vagianate le tue tesi le tue eresie hanno iniziato a nutrire dubbi sulla validità non solo dei sacramenti così della confessione dell'Eucaristia ma addirittura dei propri matrimoni come Don Viganò che si va a fare rinominare per il dubbio conservatorista falso eretico a sua volta di cui tu ne fai parte addirittura si è fatto rinominare vescovo abbiurando quindi cioè rinnegando l'essere vescovo nominato vescovo sotto il pontificato di San Giovanni Paolo II quindi questo tu fai parte di questa feccia minutella altro che piccolo resto fedele quindi dubbi hai fatto crescere questo dubbio sulla validità dei propri matrimoni dei battesimi delle comunioni ricevute come questi conservatoristi della loro stessa ordinazione sacerdotale e quindi anche del loro episcopato come Viganò siete tutti fuori voi siete tutti fuori fuori non solo dalla Chiesa e dalla comunione ecclesiale la Chiesa ufficiale ma siete fuori soprattutto dal piccolo resto fedele questo sia chiaro a tutti quello che sto dicendo oggi state attenti a quello che vi sto dicendo quello che lo Spirito Santo dice a tutte le Chiese oggi tutte le Chiese intendo tutte queste piccoli greggi di pecorelle e che non si ritrasformino di nuovo in capre di nuovo in pecore nere quindi tutto fasullo vero? tutto falso tutto niente più valido matrimoni battesimi le comunioni ricevute precipitando facendo precipitare queste anime nella desolazione più nera nell'abominio della desolazione solo quindi le comunioni con te e con quelli come te sono valide? questo state dicendo se voi pensate solo questo siete già fuori se poi lo dite allora attenti perché qualcuno tra di noi verrà anche da voi personalmente non è una minaccia fisica non siamo qui a minacciare le persone è un rimprovero ed è un ammonimento per quella che sarà altrimenti dal Signore stesso decretata una punizione spirituale perché voi state uccidendo anime state deviando anime le state facendo inciampare le state scandalizzando state impedendo loro di andare verso Gesù la Santissima Eucharistia che è valida è come è proprio Gesù che ha più bisogno che mai di entrare in comunione con noi tutti perché è il momento in cui lui viene sfigurato maciullato deriso sfreggiato calpestato e da voi viene addirittura rinnegato voi rinnegatori della validità dei sacramenti della Santissima Eucharistia in particolare avete fatto precipitare tutta la Chiesa e queste anime nella desolazione più nera l'abominio della desolazione di cui voi ne fate parte collaboratori di questi uomini moderni vestiti di nero con anime fuligginose che sono la loro veste nera infernale voi questo siete diffusori di fuligine nera di menzogne errori peccati e tra i più gravi sono pesante adesso lo sento ma dovevo dirlo e lo devo dire fino alla fine spegnete lo riaccendete non lo ascoltate più se non volete più ascoltare però io devo dirle queste cose Don Minutella Donna però adesso io ti chiamo Minutella poi li vedremo Minutella si è spinto molto oltre a tutto quello che vi ho detto ancora peggio sì ha detto che se fosse morto un nostro caro non avremmo dovuto accettare funerali da parte di sacerdoti una cum Francesco ma al più seppellirlo con una semplice benedizione altrimenti avremmo danneggiato l'anima del defunto e chi lo avrebbe dovuto benedire il fruttarolo egiziano chi lo benediva avremmo dovuto chiamare Minutella nelle sue gitarelle di qua e di là a diffondere eresie e sporcizia spirituale affermare che i sacramenti amministrati concludo perché non vedo l'ora di concludere questa parte veramente avvilente affermare che i sacramenti amministrati in comunione con il Papa regnante sono invalidi sacrileghi e addirittura satanici costituisce senza dubbio un'eresia e contrasta chiaramente con l'insegnamento dello stesso concilio di Trento sulla validità degli stessi una espressione con cui Minutella si copre si nasconde rigirandola facendo proiezione cioè ribaltando il rimprovero rivoltandolo contro coloro che lo ammoniscono cioè lui va contro questo insegnamento dello stesso concilio di Trento sulla validità dei sacramenti cioè ex opere operato e ci si riempie la bocca poi alla fine ma adesso non è troppo tempo poi mi sono stufato e lascio andate a vedere quello che dice queste spericolate asserzioni spericolate dico poco perché queste sono veramente molto peggio che spericolate sono inoltre espressioni strane e pericolose che richiamano decisamente dico io l'antica eresia donatista sull'invalidità dei sacramenti amministrati da sacerdoti reputati indegni combattuta e confutata da Sant'Agostino vedi Minutella concludo qui tu detesti Sant'Agostino non hai capito niente di Sant'Agostino e nemmeno di Sant'Omaso d'Aquino quindi ma proprio esattamente come Lutero che non ha capito niente di San Giacomo Apostolo ora tu come teologo non vali niente non è per screditarti ma perché gli errori che hai fatto sono gravissimi quindi vai a studiare un po' di sana teologia ma non è questo che io ti rimprovero è la cattiveria l'odio che vai diffondendo su quello che è una maledizione vera e propria contro coloro i piccoli i bambini che ancora frequentano i sacramenti nella chiesa del loro Gesù e che tu stai massacrando per abbreviare quello che è il progetto proprio satanista dell'elite questa nobiltà nera cioè abbreviando stai favorendo quindi stai collaborando per abbreviare quello che è il loro programma la loro agenda 2030 cioè giungere all'abominio della desolazione compiuta cioè la cessazione del sacrificio eucaristico dove allora saremo veramente costretti da tanti nostri sacerdoti santi a rifugiarci in case e di nascosto anche se la legge ce lo impedisce di nascosto come facevano i primi cristiani celebrare le sante messe con l'elveto sordo eccetera eccetera le cose che tu dici ma non certo con la gente come te che state abbreviando collaborando proprio tutto questo processo di abominio siete proprio voi collaboratori di questo abominio della desolazione punto quindi dico a tutti gli altri ricordatevi che io tutte queste cose le dico non per accusare minacciare o far star male tutto il contrario per esortare correggere rimproverando ammonendo anche se veramente ma per amore per misericordia per liberare per sanare per guarire per riportare la pace del Signore il vero agnello di Dio il vero sacerdote dell'altissimo nella sua vera santa messa che oggi è oltraggiata ma è ancora la sua messa la sua messa oltraggiata ma la sua messa per il suo ancora realmente consacrato santissimo sacramento caristico che è lui che mai come oggi sta sanguinando nel suo santissimo sacramento oltraggiato profanato e rinnegato da tanti anche che si proclamano dei nostri e non lo sono come dice San Paolo di Tarso quindi preghiamo e preghiamo sempre veramente con cuore vero sincero autentico la Vergine la Vergine Madre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Madre di Dio Mediatrice del mondo prega per noi Madre di Dio Corredentrice del mondo prega per noi Madre di Dio Avvocata del mondo prega per noi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Alleluia Grazie a tutti